La tranquilla comunità di Orsaria di Premariacco, situata vicino a Udine, è stata scossa da una terribile tragedia. Natisone. Ritrovati i corpi delle ragazze dell'abbraccio. Nelle prime ore di questa domenica, 2 giugno, sono stati ritrovati i corpi di due ragazze, Bianca Doros e Patrizia Cormos, parte di un gruppo di tre giovani che era scomparso venerdì pomeriggio. Le ragazze sono state trovate una a 700 metri e l'altra a 1000 metri di distanza lungo il corso del fiume Natisone. Le ragazze, insieme al loro amico Cristian, erano state travolte dalla piena del fiume mentre si trovavano sotto il ponte romano. Questo tragico evento è avvenuto improvvisamente, intorno alle 13 e 30 di venerdì, dopo che recenti piogge avevano gonfiato il fiume oltre i suoi limiti usuali. Il momento della morte. Secondo gli esperti, la morte delle ragazze è sopraggiunta quasi immediatamente dopo la loro scomparsa sotto il ponte. La forza delle acque, unite alla bassa temperatura, potrebbe aver causato la loro morte istantanea, con i corpi che successivamente si sono impigliati nella vegetazione o sono finiti in cavità nascoste. Le operazioni di ricerca sono state avviate subito dopo la scomparsa dei ragazzi e sono proseguite per tre giorni. Condotti dai vigili del fuoco e dalla protezione civile, i soccorsi sono stati difficoltosi a causa della forte corrente e del maltempo. Nonostante le avversità, i soccorritori hanno sperato fino all'ultimo di trovare i giovani vivi. L'intera comunità di Orsaria e dei paesi vicini si è stretta attorno alle famiglie colpite, offrendo supporto e solidarietà. La tragedia ha profondamente toccato tutti i residenti, ricordando la potente imprevedibilità e pericolosità della natura.